omicidio panzieri rinvio a giudizio per alessandrini caso soria appravata la variante la viabilità non si tocca pesaro potenza i servizi educativi estivi per l'infanzia confartigianato lancia la 19esima scuola per imprenditori verso pasqua cantiano si prepara a rievocare la turba la buona serata a tutti voi amiche amici di rossini tv ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di rossini news telegiornale di martedì 26 di marzo che apriamo questa sera con la cronaca giudiziaria perché oggi nel tribunale di pesaro andava in scena un nuovo capitolo del processo o meglio dell'avvio al processo verso il giudizio nell'omicidio di pierpaolo panzieri avvenuto il 20 febbraio di un anno fa e dopo una lunga camera di consiglio questo pomeriggio il tribunale è arrivato appunto a rinviare a giudizio michael alessandrini accusato dell'omicidio di panzieri ucciso a coltellate in via gavelli in pieno centro storico di peso era stata questa la decisione del gruppo giacomo gasparini dopo che proprio la pmc chi aveva chiesto il rinvio a giudizio ricordiamo che oggi alessandrini non era in aula ed è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione dai futili motivi e dalla crudeltà gli avvocati di pensori taormina e asole puntano ora a far cadere la premeditazione sulla base della parziale infermità mentale dell'assistito e invece questa mattina un incendio di sterpaglie è arrivato a lambire i binari ferroviari di marotta il rogo le cui cause sono in via d'accertamento si è verificato attorno alle 8 ed è stato circoscritto dai vigili del fuoco evitando l'interruzione della circolazione ferroviaria interrotta invece per circa un'ora la circolazione stradale nei pressi di via foscolo e restando in tema di viabilità non sarà modificata quella di lungofoglia caboto e via agostini a pesaro un rischio che nell'ultime settimane aveva creato un clima di insurrezione nel quartiere di soria in seguito alla variante urbanistica su largo tre martiri approvata nelle consiglio comunale di ieri dopo settimane di mal di pancia degli abitanti di soria nei confronti dell'amministrazione comunale in merito alla variante di largo tre martiri passata per raccolta firme dei residenti assemblee di quartiere e una sospensiva del consiglio comunale la sise riunitasi il 25 marzo approvato la delibera che va a riqualificare l'area ex suzuki riducendo nella capacità edificatoria e al contempo non si modificherà la viabilità come invocato più volte a spada tratta dai residenti stralciata la bretella di via agostini così come resta invariato il transito su lungofoglia caboto temi ribaditi con forza dall'assessora milla della dora che ha rivendicato la bontà dell'operazione antidegrado e le promesse sull' invariato carico di traffico si va a riqualificare un'area degradata che alle porte della città che tantissimi cittadini negli anni hanno sollecitato all'amministrazione comunale quell'area è stata oggetto di eh occupazioni abusive di eh ordinanze antidegrado solo per citare alcuno di quello che è stato diciamo quell'immobile e questo è il momento per mettere un punto fermo verso la riqualificazione di quell'area è una delibera che ci permette di ridurre la capacità edificatoria di quell'area ricordo che quell'area ha una capacità edificatoria di quattro mila metri quadri e con questa delibera si andrà a metterne tremila e quattrocento quindi si andrà a ridurre quello che è il carico urbanistico di quell'area. La delibera è stata approvata con diciotto voti favorevoli otto contrari e due astenuti. Il sindaco Ricci ha applaudito l'azione amministrativa della sua assessora. Un assessore come la Mila della Dora riesce in un ambito nel quale nessuno fino ad oggi era mai riuscito io compreso cioè mettere d'accordo i privati e proprietari di quell'area e di quel comparto ad accettare una variante condivisa riducendo la capacità edificatoria. La viabilità resta tale ma diversi residenti che hanno partecipato all'assemblea hanno mal digerito il fatto che si andrà ad edificare su un'area verde e hanno fatto notare al sindaco quanto questa resti una voce inascoltata. Uno dei temi che ha creato anche un dibattito acceso con i consiglieri di minoranza. Il comune di Pesaro ha approvato oggi il suo piano di servizi educativi per l'estate 2024. Di fronte alla sempre crescente richiesta delle famiglie l'amministrazione è riuscita ad ampliare alcuni servizi e posti disponibili. Vediamo. La giunta comunale di Pesaro ha presentato oggi il piano dei suoi servizi educativi estivi 2024. L'assessora Camilla Murgia ha illustrato come siano stati previsti 10 posti in più per la sezione primavera e ha aggiunto 85 posti per la fascia tra i sei anni. Saranno dunque 5 115 quelli disponibili a luglio 2024 che conteranno anche due strutture aperte in più rispetto allo scorso anno per un totale di 8 plessi. Al contempo è stato confermato il fondo da 86 mila euro per la frequentazione dei centri estivi privati convenzionati con il comune che nel 2023 hanno risposto a tutte le richieste pervenute per bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni. Un'altra importante risposta per le famiglie verrà data con il sostegno educativo assistenziale che per l'estate 2024 si arricchirà della quinta settimana di servizi insieme agli educatori per ragazzi che frequentano i centri estivi primati. La Murgia ha ricordato in tal senso che per garantire il servizio per un solo mese sono necessari circa 250 mila euro di risorse. L'apertura delle domande per i servizi educativi è prevista il 15 di aprile. Restiamo in tema amministrativo ma passiamo da Pesaro a Vallefoglia la cui giunta comunale ha approvato lo schema di rendiconto della gestione di esercizio relativa all'anno 2023 che ha evidenziato un avanzo di 10 milioni di euro uno dei quali immediatamente utilizzabile. Un risultato importante per una stabilità finanziaria destinata ora al miglioramento dei servizi comunali. Da Vallefoglia a Fano dove le elezioni per il nuovo sindaco della città passeranno per lo snodo intermedio delle primarie del 7 di aprile. Fra i quattro assessori uscenti in linza per essere candidato a sindaco del centro-sinistra c'è anche Cora Fattori e la sua lista civica F. Si chiama F la lista civica di Cora Fattori che richiama ad una Fano maiuscola in vista delle elezioni primarie del 7 aprile per scegliere il candidato a sindaco di centro-sinistra per la terza città delle Marche. Cora Fattori, assessora in carica per ambiente, cultura e innovazione tecnologica, è in corsa con i colleghi di Giunta, Fanesi, Mascherine e Lucarelli e ha presentato i suoi obiettivi sul tavolo del Caffè Centrale. Si parte dalle primarie e ci vuole una bella mobilitazione popolare, aiutatemi a passare le primarie e poi il 9 giugno ce la possiamo fare. Votare Cora Fattori perché in un solo anno erotti sono riuscita a fare tante cose con la determinazione e la passione, ascoltando e collaborando con tante persone che oggi mi sono venute qui a sostenere. Voglio una città maiuscola che significa una città attenta alla persona, che passi dall'individuo e arrivi alla collettività. Una città con una politica coerente. Noi parliamo sempre di essere fanno città dei bambini, per la prima volta ad una presentazione c'è un'area bimbi. Dobbiamo imparare ad essere coerenti anche nel piccolo. Cora Fattori è un percorso che punta ad un miglioramento sulla linea di continuità delle politiche intraprese, prima da consigliere con più Europa, poi da assessora. Gli aspetti principali del programma sono quelli che avete visto dal 2019 ad oggi, da consigliere comunale, poi da assessore ho cercato di portare sempre con coerenza il tema del rispetto della persona, della coerenza, del mettere a valore quelli che sono le potenzialità di una città, quindi efficientamento energetico, ambiente, rapporto con tutte le parti della città, a cominciare dalle associazioni, dalle imprese e le cose si sono fatte. Ecco perché votare Cora. È una Cora Fattori che non chiude le porte a possibili accordi o alleanze con i progressisti di Marchegiani in caso di vittoria alle primarie. Io sono stata sempre una persona inclusiva e non esclusiva, la mia storia lo dimostra in tutti gli aspetti, sono disposta a parlare con tutti, ovviamente gli accordi, le unioni, i matrimoni si fanno sempre in due, non può essere una sola parte, ma massima apertura, massimo ascolto e poi se sono rose fioriranno. Pesaro avrà due luoghi cittadini intitolati alla memoria di due campioni sportivi scomparsi come Marco Pantani e Marco Simoncelli. Lo ha ricordato in Consiglio Comunale l'assessora Francesca Frenquellucci ricordando come a Pantani sarà intitolato il collegamento ciclo-pedonale fra Colombarone e Gabicce Mare attualmente in via di ultimazione, mentre alla memoria del motociclista Marco Simoncelli sarà intitolata a Villa San Martino la rotatoria fra via Ponchielli, via Respighi e via Togliatti. In vista della Pasqua Monsignor Sandro Salvucci, il vescovo Monsignor Sandro Salvucci ha visitato oggi i reparti dell'ospedale San Salvatore di Pesaro portando un gesto di vicinanza ai malati che trascorreranno le festività lontano dalle proprie case così come un gesto di gratitudine all'infaticabile lavoro del personale sanitario. In occasione della giornata mondiale del teatro di domani 27 marzo, Pesaro celebra anche l'undicesima giornata del teatro in carcere. Lo farà con l'evento per Franca Rame e Dario Fo che si terrà domani alle 14 nella sala teatro della casa circondariale di Pesaro. L'attore Mario Pirovano presenterà alla popolazione detenuta del carcere, in particolare alle due compagnie teatrali operanti nell'istituto, una giullarata da mistero buffo di Dario Fo e Franca Rame. Nell'occasione Mattea Fo, presidente della fondazione, e Stefano Bertea, responsabile dei progetti della stessa fondazione Forame, doneranno alla biblioteca dell'istituto una selezione delle pubblicazioni delle opere degli stessi Dario Fo e Franca Rame. Da oggi c'è una nuova altalena inclusiva nel parco di Via dei Tigli e nel quartiere pesarese di Torraccia. Donarla è stato il comune di Pesaro tramite il progetto Altro Giro, progetto di Economia Circolare, promosso in collaborazione con la Onlus Gulliver, associazione che ha già arricchito con i suoi doni decine di parchi giochi cittadini. Ad Ancona, con partigianato Imprese, ha presentato oggi la diciannovesima edizione della Scuola per Imprenditori, ancora una volta portata avanti in sinergia con l'Università Politecnica delle Marche. L'intelligenza artificiale a misura d'impresa. E' questo il titolo della diciannovesima edizione della Scuola per Imprenditori di Confartigianato in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e la Camera di Commercio. Un'opportunità che durerà sei appuntamenti dall'8 aprile al 17 giugno e che permetterà di affrontare e conoscere il tema dell'intelligenza artificiale ma anche di fare rete tra imprenditori. La novità di quest'anno è che oltre alla sede di Ancona, dove sarà possibile seguire i corsi, ci sarà anche quella di Pesaro. Da 19 anni organizziamo questa Scuola per Imprenditori. Il tema degli ultimi anni della Scuola per Imprenditori è sempre stato il digitale. L'intelligenza artificiale è un po' l'ultima frontiera, se vogliamo, l'ultima evoluzione che c'è stata per quanto riguarda il mondo del digitale. Per noi, a maggior ragione, il piccolo imprenditore deve conoscere queste possibilità che ci sono perché l'intelligenza artificiale sia un mezzo comunque per poter competere ulteriormente. Dopo aver affrontato il tema dell'etica dell'intelligenza artificiale e di come l'imprenditore può gestirla e dominarla, ora affronteremo il tema del percorso della conoscenza, per cui l'imprenditore avrà sei appuntamenti per conoscere l'evoluzione e la declinazione dei vari strumenti, per poi arrivare a un check finale e comprendere quanto l'intelligenza artificiale potrà cambiare la propria attività e quindi ci sarà anche un focus dedicato all'intelligenza artificiale declinata per ogni singolo operatore e per la sua categoria. L'intelligenza artificiale potrebbe sembrare che fa tutto da sola, in realtà non è così, va in qualche maniera gestita. Va gestita nel momento in cui dobbiamo interagire con i vari algoritmi e nel momento in cui dobbiamo valutare e validare le risposte. Questo richiede quindi competenze e l'obiettivo di questa scuola che ha raggiunto ormai il diciannovesimo anno, quindi è una scuola consolidata e che è rivolta soprattutto al sistema delle piccole e micro imprese è proprio quello di far comprendere operativamente come l'intelligenza artificiale può essere utilizzata nella gestione. Si tratta di un percorso composto da sei seminari, ogni seminario durerà a due ore dalle 18.30 alle 20.30. Si inizia l'8 aprile per concludersi poi con il 17 giugno. Saranno due appuntamenti mensili, saremo in presenza qui ad Ancona nel centro direzionale di via Fioretti 2A. Quest'anno sarà possibile per gli imprenditori seguire le lezioni anche dalla nostra sede di Pesaro in via Bedosti 21. In quel caso il professore sarà in collegamento ma gli imprenditori presenti potranno interagire facendo domande, facendo quesiti, insomma chiedendo tutto quello che avranno la curiosità di sapere riguardo alle lezioni. Possono partecipare tutte le imprese interessate, basta andare sul nostro sito www.confartigianatoimprese.net c'è una pagina interamente dedicata alla scuola per imprenditori, basta cliccare lì e appunto iscriversi. Si avvicina la Pasqua e a Cantiano torna uno degli eventi culturali e religiosi più caratteristici e suggestivi d'Italia. Parliamo della turba che nel venerdì santo del 29 marzo trasformerà l'intero paese in un grande palcoscenico destinato alla rievocazione storica. Come da tradizione di ogni venerdì santo, il 29 marzo Cantiano tornerà indietro di 2000 anni col paese alle pendici del Catria pronto a revocare gli scenari della Terra Santa diventando palcoscenico della turba, ovvero la solenne rappresentazione che ripropone nelle forme del teatro popolare e religioso la passione, morte e ressurrezione di Gesù Cristo. Un momento che coinvolge l'intera Cantiano come ricordato questa mattina nella presentazione avvenuta nella sede peserese di Confcommercio alla quale Cantiano è legata come uno dei 25 comuni degli itinerari della bellezza. La turba è un orgoglio per tutta la comunità ed è un momento corale in cui più di 200 figuranti si sottraggono alla loro quotidianità per entrare in un clima particolare in cui ognuno si sente attore protagonista di quella che è una rappresentazione teatrale che ormai calca le scene internazionali. Quindi ecco siamo tornati alla turba classica dopo il momento ecco di difficoltà del paese che ha rivisto comunque la turba anche svolgersi lo scorso anno a meno di un anno dall'alluvione del 2022 e quindi torniamo nel suo massimo splendore. È una tradizione secolare dal 1400-1500 che quindi a Cantiano si realizza la turba in varie forme ma anche un coinvolgimento del paese perché viene realizzata in varie parti del paese, tre in particolare. Quindi abbiamo nei giardini pubblici dove avviene l'ultima cena, la cattura, poi c'è nella piazza Luceoli dove è lì la parte centrale dove è il processo quindi dove Gesù viene portato di fronte al cospetto dei sacerdoti di Erode e di Pilato e poi c'è la salita al Golgota che è la terza scenografia che è una scenografia naturale sfruttando una collina che è sopra a Cantiano. Interpretò il personaggio di Erode che in quei giorni appunto veniva apposta per conoscere questo fantomatico Gesù. C'è il sentimento ancora più forte perché essendo appunto di Cantiano la sento, sento queste radici, sento questo peso dei cento anni, perché comunque cento anni che si fa la turba. Diventa proprio Cantiano un teatro a cielo aperto in cui accogliere i turisti che trovano nella turba non solo uno spettacolo coinvolgente ma anche proprio una esperienza emotiva e per chi è credente anche religiosa di grande impatto. Da qualche giorno è partita la settimana da Capitale della Cultura di Gabice Mare nel progetto 50x50 Capitali al Quadrato. Una settimana che avrà uno dei suoi luoghi centrali al Mississippi e nell'esperienza immersiva che proporrà il luogo simbolo di Gabice. Amiche amici di Rossini TV prosegue il percorso di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura 2024 in particolare del tema dedicato ai comuni della provincia, questo 50x50 Capitali al Quadrato e oggi siamo all'inaugurazione della settimana di Gabice. Gabice Mare Monte, come da questo nuovo ormai brand che abbiamo imparato a conoscere, propone una settimana intensa che si ricomprende sotto il titolo del Festival degli Sguardi. Oggi ci troviamo qui all'interno del Mississippi che è stato sempre un punto cardine di Gabice Mare Monte che è poi stato il city brand che ospita inoltre anche l'installazione immersiva che è Gabice Mare Monte Experience. È un momento in cui le persone potranno entrare e fare un viaggio proprio all'interno del territorio, lasciarsi immergersi e provare tutte quelle esperienze che magari non sempre si prova perché sarà un volo ad agli aperte su quello che è il nostro territorio. E qui devo ringraziare i miei collaboratori, Vincenzo Marcone che ha curato la colonna sonora e Filippo Gualazzi che invece ha curato la parte interattiva perché insieme anche a Federica Cioppi abbiamo confezionato tutto questo Festival degli Sguardi che ospiterà insomma vari appuntamenti ma soprattutto tutto quello che appartiene al punto di vista rinnovato. Tant'è che la nuova immagine coordinata è proprio un caleidoscopio che abbraccia tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Cercheremo di presentarci al meglio con un programma molto variegato che le cui principali iniziative si svolgeranno proprio all'interno di questa struttura che è il Mississippi dove ci sarà e breve poi faremo l'inaugurazione questa stanza nel locale, una stanza immersiva dove andremo con delle immagini visive un po' a emozionare la gente quindi facendo conoscere la nostra natura proprio perché Natura della Cultura è un po' il titolo anche di Pesaro Capitale della Cultura. Vorremmo far conoscere il nostro territorio dal mare al monte, il bellissimo panorama del mare, il parco del San Bartolo che ci rendono unici anche come destinazione turistica. Abbiamo voluto anche presentarci come unica destinazione turistica che è la riviera del San Bartolo. Nemmeno il tempo di esultare per lo storico traguardo del primo raggiungimento dei play-off in Serie A per la Megabox Vallefoglia che inizia già la post-season e le Tigri devono tornare in campo. Lo faranno domani, mercoledì 27 marzo alle 20.30 quando cominceranno la prima avventura play-off scudetto affrontando al Palawodni di Firenze la Savino del Bene Scandici arrivata seconda al termine della regular season. La squadra toscana guidata da Barbolini ha battuto due volte su due la Megabox 3-0 in casa e 3-2 a Pesaro rimontando dallo 0-2. Il ritorno a Pesaro è programmato per sabato 30 marzo alle 15.30. E con lo sport concludiamo questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News in un martedì sera che continua invece all'insegna degli approfondimenti culturali, in particolare con la musica perché alle 20.00 una nuova puntata di Sinfonia di Maestri, il nostro format dedicato al trentennale dell'Orchestra Sinfonica Rossini. La nostra Emanuela Rossi approfondirà alcuni argomenti con il primo violino di spalla Francesco Pellegrini e Alessio Arcangeli, direttore organizzativo dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Come detto, appuntamento subito dopo il Tg a partire dalle 20.00. E poi il martedì sera è la serata dedicata alla politica ed amministrando verso le elezioni 2024. Ospiti questa sera nel format condotto da Luigi Benelli saranno il consigliere comunale del Partito Democratico di Pesaro, Michele Gambini, e le consigliere di quartiere Pantano, nonché esponenti di Fratelli d'Italia, Marcello Valdinocci, che analizzeranno alcune tematiche dell'amministrazione pesarese, come detto, a partire dalle 21.20. Poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini, rassegna stampa dei quotidiani locali, che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. Si conclude invece qui Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.